Sì, ti fa un brazo e salva la voce da qua. Cosa vuoi chiamare? Maddalena. Allora signora, io dicevo a questa mia carissima amica i contronomi. I contronomi possibili. Allora, voi il vostro contronomo vuoi sapere qual era? La famiglia. Come contronomi? Io appartenavo a Niel. Niel? Signora, il mio papà oggi per esempio ricordava era zocca la presa. Ah, bravo. Don Procolo testo che l'ho nato benevisa lui. Oh no. Mi sono usciti i testo. Perché noi ci riconosciamo con i contronomi che adesso non sono usciti. Ma non è niente. Per la lingua eh. E noi ci riconosciamo. Ma perché ci stai a mangiare? Signore, è il caso. Sono i fili che si intrecciano. Quanti anni ti avete? 84 anni. 84 anni e Rita è già cucinata. Oh! Cosa cucinata? Cosa cucinata? No, è cucinata. Cucinata per io. E che cucina? Solo sono io. Solo? Solo a casa? Solo. Come cucinata? La sera preferite mangiare o mangiare il pomeriggio come fa mamma? Stuto sua. Mia madre cucina. Mi scopri se cosa è male. Fatelo fare. Mia madre ogni giorno mangia con me. E la sera come voi. Ho un latte e ozzo. Questa mattina. Tra l'83 anni fa noi. E la mia fidanzata. Ieri sei stata a casa di mamma eh. Ieri abbiamo festeggiato un ristorante perché era San Giuseppe. Voi come vi chiamate? Io mi chiamo Maddalena. Maddalena, 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 Maddalena. Ciao! Ciao! Ciao